Bene, buonasera, buonasera a tutti. Questa sera presentiamo il Salmo 137 o 136, come si vuole numerare, lungo i fiumi di Babilonia. Il titolo è un canto dell'esilio, possiamo dire, è un canto delle difficoltà. Intanto ascoltiamo il testo. Lungo i fiumi di Babilonia là sedevano e piangevano ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni e i nostri oppressori cantateci canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano, spogliatela, spogliatela fino alle sue fondamenta. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e gli sfraccellerà contro la pietra. Grazie, grazie. Bene, Salmo 137 o 136. Intanto partiamo un po' dal contorno, poi cerchiamo di arrivare un po' più al dentro. I salmi, lo sappiamo, sono 150 e quindi questo è il numero 137 o 136. Questa doppia numerazione è dovuta al fatto che i 70, nella traduzione greca dei 70, per quasi tutto il salterio sono rimasti indietro di un numero, perché il salterio dei 70 unifica il Salmo 9 e il Salmo 10, quello che in ebraico era il Salmo 9 e Salmo 10 e quindi poi si è indietro di un numero. Poi la cosa viene recuperata intorno al 145, dove vengono divisi due, quindi poi si chiude tutti i due con 150. Però la traduzione greca dei 70 ha una numerazione un momentino diversa. Nella traduzione latina, quella che è poi diventata la vulgata, è stata seguita la numerazione greca. Nella liturgia di oggi, per esempio se uno prende un messalino, un messale del domenica prossima, quando verrà letto questo Salmo, il Salmo è chiamato dal Salmo numero 136. Quindi il numero 137, quello che è più avanti, è dell'originale ebraico e il numero che è quello più indietro è della traduzione dei 70 e della traduzione latina, è ancora usato nella liturgia. Questo per la numerazione. Salmo 150 salmi, abbiamo detto, i salmi si dividono così genericamente in inni, cantici e suppliche e questo quindi potremmo chiamarlo una supplica collettiva, una supplica collettiva di composto quando, composto da chi. Gli studiosi immaginano che sia stato composto nel periodo del post esilio, quindi che sia stato composto quando già si era tornati a Gerusalemme, ma quasi col Salmo si immaginava di rivivere quel periodo dell'esilio dove era stato un periodo difficile, un periodo sofferto. Quindi il Salmo è fatto forse con una specie di artificio letterario di trasferirsi là. Si usa il passato, è lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo, quindi adesso non sediamo più, perché si immagina che si è tornati a Gerusalemme. Forse chi l'ha scritto? Ma certamente l'ha scritto qualcuno è molto legato al Tempio, quindi potrebbe essere più genericamente un Levita o potrebbe essere anche un sacerdote, perché come sappiamo i sacerdoti erano quelli che servivano più al Tempio per i sacrifici e i Leviti invece erano più in un contorno, ma facevano anche loro un servizio al Tempio. In ogni caso il Leviti era un gruppo più grande che comprendeva al suo interno anche i sacerdoti. Leviti tutti i figli della tribù di Levi, i sacerdoti solo i figli di un discendente di Levi che è Aronne, i sacerdoti. Perché Levita o perché sacerdote? Perché c'è un grande riferimento al Tempio e d'altronde il Tempio era quello che mancava in modo particolare quando uno era in esilio a Babilonia, perché la Bibbia in qualche modo ce l'avevano, qualche libro l'avranno portato, qualcosa avranno potuto, poi lo sapevano a memoria magari. Le usanze più o meno le hanno anche continuate altre usanze loro, perché alla fin fine anche i babilonesi non è che gli hanno imposto chissà che cosa. Poi da un certo punto in poi gli ebrei in qualche modo hanno saputo sistemarsi anche a Babilonia, si immagina anche che un certo numero non sia tornato da Babilonia e quindi... ma invece il Tempio mancava, certamente il Tempio mancava e mancava soprattutto a chi per lavoro potremmo dire ma poi per impegno, per generosità, faceva un servizio al Tempio. Questo Salmo è molto apprezzato, questo Salmo 137, per la sua poetica, per la sua poesia, poesia che è stata ripresa da tanti poeti o anche musicisti nel periodo nostro, nel periodo del del Settecento, dell'Ottocento, è un Salmo che è stato ripreso in modo specifico anche da Verdi, nel Va Pensiero, nel Nabucco, che riprende sostanzialmente proprio questo Salmo qui. Quindi è un Salmo che per la sua poesia, che qualcuno dice che è forse una delle pagine più alte della poesia ebraica e della poesia universale, poi più alte bisogna discutere, ma insomma comunque è importante, ecco. Diventa poi un paradigma delle difficoltà umane, d'altronde Verdi cita questa poesia quasi per sottolineare l'oppressione del regno della parte lombarda e veneta sotto gli austriaci, sotto gli austriaci, e quindi come dire siamo qui oppressi dagli austriaci, non parla di questo perché era possibile parlarne, ma va a parlare degli ebrei per parlare di altri, e quindi riprende queste stesse idee. Beh, questa poesia ha grandi emozioni, per esempio la nostalgia della patria lontana, l'amore intenso per Gerusalemme, la città santa distrutta, e poi questa poesia, in questi ultimi tre versetti, diventa anche sdegno, veemenza contro Edom e contro Babilonia, poi ne parleremo meglio di questa parte. Difatti in questo Salmo ci sono grandi contrasti, da una parte grandi sentimenti anche molto positivi, questo sedere e piangere, questo ricordarsi di Gerusalemme, questo amore per la città eterna, questo attaccamento alle cose più belle che il popolo ebraico aveva, e dall'altra parte invece quelle frasi finali che, una lettura un po' attenta, ci fanno inorridire, ci fanno inorridire, ci fanno inorridire, quindi è un Salmo di molti molti contrasti. Ma visto che è breve leggiamolo un po' meglio insieme e analizziamolo parte per parte. Lungo i fiumi di Babilonia. Lungo i fiumi di Babilonia la sedevamo piangendo. I fiumi di Babilonia perché Babilonia è una città mesopotamica tra il Tigre e le Ofrate, un luogo molto ricco di acque e quindi ci sta bene questo lungo i fiumi di Babilonia. C'è Ezechiele che in un'altra parte sua cita che gli ebrei abitavano a Babilonia presso il torrente Kerab, mi pare il nome che fosse così, quindi in qualche modo è una collocazione che gli ebrei hanno ottenuto andando deportati a Babilonia. Lungo i fiumi di Babilonia la sedevamo e piangevamo. Questo sedere, vabbè, sedere è uno che è immobile lì, che è prigioniero, che non può andare chissà dove, ma è soprattutto anche un senso di prostrazione, uno che è seduto che non ha più la forza di alzarsi, non ha più la forza di fare, quindi è un sedere fisico ma è soprattutto un sedere, uno star seduto come dal punto di vista psicologico. La sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Sion è un modo un po' diverso per richiamare la città di Gerusalemme perché la città di Gerusalemme era costruita intorno a questa montagnola chiamata Monte Sion e quindi gli ebrei poi chiamavano a volte indifferentemente la città di Gerusalemme o la città di Sion, quindi sedevamo ricordandoci di Sion. Ai salici di quelle terre appendemmo le nostre cetre. Le cetre è uno strumento musicale, i salmi normalmente venivano cantati dagli ebrei e quindi venivano cantati con l'accompagnamento di qualche strumento musicale. La cetra non è la nostra moderna chitarra ma potrebbe in qualche modo essere uno strumento a corda che si avvicina, insomma qualcosa del genere, poi non sappiamo bene come fossero e non abbiamo grandi prove di questi strumenti di allora, però è chiaro che in terra straniera piangendo, seduti, stanchi, provati, le cetre non servono perché i salmi erano soprattutto canti di gioia, canti di festa, canti di letizia, canti di lode al Signore ma qui il Tempio non c'è, il Signore sembra che ci abbia abbandonato e quindi che ne facciamo delle nostre cetre, le appendiamo ai salici, come dire, non servono più. Poi c'è bella questa immagine di queste cetre appese ai salici. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato? Ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Uno poteva dire, beh, sono questi babilonesi che, conoscendo che questi ebrei avevano una loro poesia, avevano le loro canzoni, possono dire, beh, facci a sentire le vostre canzoni, potrebbe essere un senso di curiosità e finché fosse un senso di curiosità da parte dei babilonesi, ci sta, ci sta. Potrebbe essere anche un senso di disprezzo. Fateci cantare i vostri canti adesso, come disprezzo nel senso, vediamo se avete ancora la voglia di cantarli, vediamo se avete ancora il coraggio di cantarli, oppure se ormai avete l'orecchio così basse che, insomma, quindi, e quindi sembrerebbe quasi una presa in giro. Fateci cantare, ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni i nostri oppressori. I nostri oppressori sono i babilonesi, ci chiedevano di cantare allegre canzoni. Cantateci i canti di Sion. I canti di Sion vorrebbe dire i canti di Gerusalemme. Nel Salterio c'è un gruppetto di salmi raccolti qua e là, adesso non ve li cito perché non saprei il numero a memoria, che sono detti canti di Sion. Ossia, con questa espressione cantateci i canti di Sion si può intendere tutto il Salterio. Forse si può anche intendere un gruppo di salmi più particolari che sono quelli in cui ci sono i riferimenti a Gerusalemme. Perché in diversi salmi c'è questo riferimento specifico a Gerusalemme e questi salmi poi sono stati detti anche come canti di Sion. Qui se i deportati, se gli oppressori babilonesi chiedendo di cantare i canti di Sion intendono gli uni o gli altri non lo sappiamo. Cosa intenda il salmista, se intende tutto il Salterio o solo quella parte più specifica, neanche questo non lo sappiamo bene. Comunque, al di là di questo, cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Vien a dire, era quasi una domanda retorica. E' mai possibile cantare questi canti in terra straniera? Non è possibile, non è possibile. Arriviamo così al versetto 5 che è quello potremmo dire centrale del Salmo. Se mi dimentico di te Gerusalemme, se mi dimentico di te, si dimentichi di me la mia destra. Ossia la mia destra non mi riconosca più. Noi tutti sappiamo che abbiamo la mano destra e sappiamo muoverla e sappiamo agitarla, sappiamo usarla. Se non riuscissi più a usare la mano destra, vuol dire che ho dei problemi seri, di salute e quindi la mia mano destra si dimentica di me, per esempio, se si paralizza. Quindi io non sono più capace a comandarla, la mia mano destra non mi risponde più. Quindi è proprio grave se la mia mano destra non mi funziona, no? Anche perché la mano destra poi comunque è più importante per mille motivi, insomma, della mano sinistra, per quelli che sono destri, certo, certo. E quindi le parole del Salmo che dicono si dimentichi di me la mia destra se mi dimentico di te Gerusalemme è molto forte come espressione, è molto forte. Ossia è meglio che mi si paralizzi la mano destra rispetto a che mi dimenticarvi di Gerusalemme. Poi avrete notato che c'è in questo versetto il passaggio dal plurale al singolare. Prima si diceva lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo, quindi in tanti sedevamo piangendo. Poi il salmista parla al singolare, passa al singolare. Se mi dimentico di te Gerusalemme, si dimentichi di me la mia mano destra. Questo passaggio al singolare è un rafforzativo. Il salmista si mette in gioco in prima persona. Non siamo in tanti che, insomma, nel gruppo, ma al comune mezzo gaudio, viene così. Quindi invece singolare diventa molto più, assolutamente più impegnativo. E questo versetto 5 è un po' il centro dove c'è il richiamo a Gerusalemme e c'è il richiamo al dimenticare che è il negativo di ricordare. Dove ricordare per gli ebrei era un verbo molto importante. Noi tutti conosciamo, penso, lo Shema Israel, ricordati Israele, che era la preghiera più semplice, anche più importante, che gli ebrei facevano, che da un certo punto in poi se la mettevano anche in una specie di rotolino, in un attuccio posato qui in mezzo, e sì che lo usano ancora oggi, una roba posata lì, ma quasi per dire, voglio così ricordarmelo questa frase, che è così importante, che me la metto davanti agli occhi, e quindi non posso proprio non vederla, poi non è proprio in mezzo agli occhi, è un po' sopra, ma sì, però è come dire mi pende lì in mezzo agli occhi, me la ricordo sempre, Shema Israel, ricordati Israele. E qui c'è il verbo negativo che però richiama certamente l'altro. Se mi dimentico di te Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra, è il versetto centrale. E poi il versetto successivo lo rafforza ancora, mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Mi si attacchi la lingua al palato vuol dire diventi muto, eh? Quindi quando uno diventa muto non solo non più canta i canti di Sion, ma non parla neanche più. Quindi se mi dimentico i tuoi canti, se mi dimentico la bellezza di Gerusalemme, la poesia, le canzoni, i salmi, è meglio per me diventare muto. Mi si attacchi la lingua al palato. Se non innalzo, mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo. Se non innalzo Gerusalemme, al di sopra di ogni mia gioia. È una bella poesia proprio questi versetti di fiducia, di speranza, di attaccamento, di sentimenti verso la città di Gerusalemme e quello che per Gerusalemme rappresentava. Gerusalemme è diventato il centro propulsore del regno ebraico un po' per volta, eh? Perché agli inizi gli ebrei non ce l'avevano proprio Gerusalemme. Gerusalemme ha incominciato ad avere una certa importanza quando Davide l'ha conquistata, poi è diventata la capitale del regno e poi con la costruzione del Tempio a Gerusalemme, quindi il Tempio è poi diventato l'unico Tempio e c'è nella Bibbia sovente la discussione con i samaritani che invece avevano il Tempio a Silo. E invece i giudei da un certo punto in poi dicono solo, solo, solo Gerusalemme e altri posti non si può adorare Dio. Nel post esilio viene ancora più rafforzato questa centralità di Gerusalemme e questo salvo certamente rafforza moltissimo questa centralità di Gerusalemme rispetto a tutti gli altri luoghi della Terra Santa. Incominciano poi i versetti 7, 8 e 9 che sono i versetti un po' più complicati che normalmente non vengono utilizzati nella liturgia di fatti per esempio domenica prossima quando utilizzeremo questo salmo ci si fermerà col versetto 6 non perché il salmo è troppo lungo perché alla fine non è molto lungo ma proprio perché gli altri tre sono un po' più complicati noi li leggiamo e cerchiamo di commentarli lo stesso la poesia c'è sempre si parte da tanto attaccamento a Gerusalemme tanto amore, tanto desiderio tanto anche strazio della lontananza io dicendo si passa a queste maledizioni queste maledizioni contro Edom e contro Babilonia Babilonia sappiamo chi era la Babilonia è la città dei babilonesi che avevano conquistato Gerusalemme poi il regno babilonese verrà sovvertito dal regno di Ciro il Grande che permetterà di tornare a Gerusalemme invece Edom sono i discendenti di Isaù che nella Bibbia abitavano poi nelle zone più a sud di Gerusalemme quindi quella bassa, bassa, bassa Palestina se vogliamo bassa Palestina ed erano sempre in contrasto in contrasto con gli ebrei in contrasto gli ebrei l'avevano poi i Filistei con i Cananei, i Jebusei e via via ce ne erano tanti popoli ma gli Dumei o Edomiti sono un contrasto che poi è durato per molto tempo e per esempio traspare da questo salmo e traspare dal libro delle cronache e traspare dal libro delle alimentazioni e traspare da qualche profeta che nel periodo babilonese in cui gli ebrei erano stati sconfitti e stati esiliati a Babilonia gli abitanti di Edom avevano come dire meno male che vi è successo anche a voi qualcosa di grave meno male che che i babilonesi se l'hanno presa con voi anche perché forse questi erano alleati con i babilonesi quindi erano rimasti risparmiati perché nei periodi più di gloria del popolo ebraico erano un po' vassalli potremmo dire con un termine più nostro è più moderno del medioevo erano un po' vassalli degli ebrei quindi sottomessi agli ebrei nel periodo di Davide di Salomone quando il regno ebraico era molto forte poi invece nel periodo invece di difficoltà del regno ebraico questi erano più liberi più tranquilli secondo la storia poi storia più o meno da verificare erano i figli di Esau che era il fratellastro di Isacco la sappiamo dal libro della Genesi che Abramo aveva avuto un primo figlio dalla schiava e poi invece aveva avuto un secondo figlio Isacco dalla moglie e quindi aveva mandato via la schiava e il suo figlio e questo si era trasferito in zone più a sud e di lì si era sviluppato il popolo che è un popolo potremmo dire palestinese arabo quello che è anche oggi Ismaele sì Ismaele e quindi erano in contrasto leggiamo il versetto ricordati signore dei figli di Edom ma ricordati in senso negativo che nel giorno di Gerusalemme quale sarebbe sto giorno di Gerusalemme? il giorno dell'esilia Babilonia che nel giorno di Gerusalemme dicevano cosa dicevano questi Edomiti? spogliatela spogliatela rubate tutto qualche si da rubare rubate rubate portate via tutto spogliatela spogliatela fino alle sue fondamenta quindi distruggetela distruggetela meno male che non c'è più meno male che il tempio è stato rosa al suolo meno male che i palazzi più importanti non ci sono più e quindi ricordati signore che questi hanno detto quello eh ma ricordati in un senso come dire quando noi diciamo ricordati signore che quello ha fatto tanto di quelle cattiverie potrebbe succedere anche noi che diciamo questi ricordati versetto 8 anche questo è imprecativo figlia di Babilonia devastatrice è un eufemismo figlia di Babilonia per indicare Babilonia eh figlia di Babilonia Babilonia devastatrice beato chi ti renderà quanto hai fatto se tu sei stato devastatrice beato chi renderà te pan per focaccia quindi chi devasterà Babilonia più duro ancora il versetto finale beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfraccellerà contro la pietra noi fai non ridire questo versetto noi fai non ridire questo versetto è pur vero che a volte in questi popoli popoli antichi a volte c'erano le guerre erano anche molto molto feroci eh molto feroci vuole dire che quando si conquistava una città e anche nella Bibbia sovente si usa il termine quella città fu votata allo sterminio noi traduciamo cosa significa che la città era stata votata allo sterminio vuol dire che dovevano essere uccisi tutte le persone di quella città tutte 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 vuol dire tutte eh vuol dire che tutte le case distrutte non si poteva portare via niente non dico vado là raccolgo l'oro vado là raccolgo questo vado là raccolgo i frutti vado là raccolgo le cose preziose no votare allo sterminio vuol dire non prendere neanche nulla perché già mentre prendi qualcosa in qualche modo ti diventi diventi succube di quella città se prendi un amuleto d'oro faccio per dire che è la divinità di quella città tu prendi l'amuleto poi lo adori quell'amuleto allora sovente nella Bibbia nei libri più antichi si dice che la città fu votata allo sterminio votare allo sterminio vuol dire distruggere in questo senso senza 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 se senza ma e quindi questa frase si è fortissima e ci inorridisce però è pur vero che che tante volte succedevano queste cose succedevano succedevano queste cose c'è stato un cammino e non per nulla Gesù dice avete inteso che fu detto ma io vi dico non per nulla c'era tanta religiosità tante cose belle nel popolo ebraico questo salmo una grandissima poesia c'è anche una parte molto dura e molto cruda e che molto 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 così fa parte di un la legge del taglione d'altronde era la legge del taglione che 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 è citata nei libri del 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 pentateuco voleva dire che taglione vuol dire tu fai una cosa questa ti restituisco la stessa cosa se tu uccidi un mio fratello io uccido uccido te ti restituisco nella stessa misura il male fatto il male fatto poi certo c'è chi ha usato ha cercato di come dire magari anche vero e ci possono fare anche letture diverse di queste di queste frasi molto forte molto dure fare diventare quasi modi simbolici modi di dire simbolici che sono rafforzativi sia si dice il negativo per rafforzare il positivo quindi come disprezzo edome disprezzo babilonia e auguro a edoma e babilonia tanto negativo non è non è tanto per sottolineare questo negativo ma è per sottolineare il positivo di prima ci sono letture che dicono che questi versetti andrebbero intesi non per quel che dicono veramente ma per rafforzare parlando di una esperienza negativa rafforzare il positivo che è detto nei versetti precedenti d'altronde se il versetto 5 dicevamo prima è un po a metà del salmo e fa un po da cerniera del salmo con quelle due espressioni ricordati e gerusalemme versetti precedenti sono nostalgia verso gerusalemme sono desiderio di gerusalemme sono dispiacere per la lontananza e via via tutto quello che abbiamo detto i versetti ultimi mettendo al negativo andrebbero a rafforzare il positivo sottolineato dei precedenti ci sono letture letture un momentino diverse per questo salmo come tutti i salmi poi è stato letto dalla chiesa e viene letto dalla chiesa a parte i tre versetti finali che sono un po poco usati e diventa diventa come una nostalgia che tutti noi abbiamo perché pur vero che noi tutti come cristiani san paolo lo sottolina certe volte anche il nuovo testamento vangeli vedono come la gerusalemme celeste come la nostra casa vedono il regno dei cieli come il nostro arrivare e quindi noi siamo in qualche modo in esilio pur vero poi magari ci stiamo anche bene in questo esilio in questa terra di lacrime come si diceva una volta ma e poi è bello anche vivere positivamente questa vita però anche vero che come cristiani abbiamo come nostalgia del cielo abbiamo come desiderio di arrivare in cielo certo ci impegniamo su questa terra perché è bello vivere positivamente su questa terra ma ci impegniamo su questa terra anche perché abbiamo di fronte una prospettiva che volesse una prospettiva di speranza e una prospettiva di realizzazione e questa prospettiva di speranza e di realizzazione viene chiamata molto sovente la gerusalemme del cielo tutti noi conosciamo capitolo finale dell'apocalisse dove san giovanni o l'autore dell'apocalisse che dir si voglia descrive la gerusalemme del cielo a partire dalla dalla gerusalemme terrestre con le caratteristiche che gli attribuisce ma come dire come cristiani abbiamo questa nostalgia del cielo questa nostalgia di pienezza che poi è bello anche realizzare il potremmo dire il regno dei cieli già qui perché se noi riusciamo a voler bene alle persone se noi riusciamo a a costruire rapporti di fraternità riusciamo a costruire un rapporto positivo col signore beh già qui realizziamo in qualche modo questa gerusalemme celeste perlomeno in parte perlomeno per quel che riusciamo quindi la chiesa ha visto questo 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 salmo come una bella nostalgia bella nostalgia del regno dei cieli o bella nostalgia potremmo dire del del regno che cristo vuole vuole instaurare vuole instaurare con noi domenica prossima lo leggeremo a commento della prima lettura perché sovente i salmi nella liturgia vengono letti a commento della prima lettura nella prima lettura domenica verrà letto un passo del libro delle cronache l'antico testamento che racconta l'esilio di babilonia accenna brevemente all'esilio babilonia poi accenna a ciro che ha permesso agli ebrei di tornare a gerusalemme e allora il salmo ci sta bene questo salmo a commento di quella di quella prima lettura che verrà letto volevo spendere una parola in più su questi salmi imprecatori che poi sono stati censurati dalla chiesa sono un salmo tutto intero che il salmo 109 di cui adesso leggerò un pezzo e poi invece altri solo pezzettini e qui per esempio in questo salmo sono tre versetti in altri salmi nel salmo 51 c'è un versetto ma non mi ricordo più come come dica nel salmo 51 da altre parti un versetto qua e là ma pochi sa poche pochi versetti in tutto salmi imprecatori in cui ci sono maledizioni e vuol dire imprecare contro qualcuno lo dice anche l'italiano si impreca vuol dire che a posto di benedire si maledice si maledice il più il più esempio di salmo imprecatorio è il salmo 109 che non si usa mai nella liturgia così lo leggiamo e non leggo tutti i primi versetti i primi versetti si parla del malvagio che commette le sue malvagità ma questo fin qui è tutto più una descrizione invece poi dal versetto 6 ci sono queste a chi commette il male il salmista dice suscita un malvagio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra a quello che fa il male citalo citato in giudizio ne esca colpevole e la sua preghiera si trasformi in peccato pochi siano i suoi giorni e il suo posto l'occupi un altro vuoi a presto vuol dire i suoi figli rimangano orfani e vedo la sua moglie vadano raminghi i suoi figli mendicando rovistino tra le loro rovine l'usuraio divori tutti i suoi averi e gli estranei saccheggino il frutto delle sue fatiche nessuno gli dimostri clemenza nessuno abbia pietà dei suoi orfani la sua discendenza sia votata allo sterminio lo sterminio è quello che dicevamo prima la sua discendenza sia votata allo sterminio nella generazione che segue sia cancellato il suo nome la colpa dei suoi padri sia ricordata al signore il peccato di sua madre non sia mai cancellato siano sempre davanti al signore ed egli elimini dalla terra il loro ricordo perché non si non si è ricordato di usare clemenza quindi primi versetti descrivono il malvagio che ne conviene tutti i colori poi ci sono queste maledizioni e poi c'è la spiegazione delle maledizioni perché non si è ricordato di avere clemenza quindi lo maledetto perché non perché colpa sua sostanzialmente perché non si è ricordato di avere clemenza e ha perseguitato un uomo povero e misero col cuore affranto per farlo morire l'ultimo versetto ha amato la maledizione come dire se le tirate queste maledizioni ricada su di lui non ha voluto la benedizione da lui si allontani la benedizione questo è il salmo più più imprecatorio che c'è ho voluto leggerlo tanto per per sentire sentire cosa dice questi salmi imprecatori sono stati sempre un po visti come difficoltà a volte come difficoltà non ci sono solo dei salmi imprecatori questi versetti che ho citato ma anche qualche altro passo della bibbia che a volte fa difficoltà qualche altro passo qua e là che fa difficoltà non sono tantissimi però poi là ci sono certo la chiesa si è poi chiesta se se poter si può pregare con questi salmi e per esempio perché la chiesa prega coi salmi oltre che nella nella messa prega coi salmi nella sua preghiera ufficiale che è la liturgia delle ore la liturgia delle ore lodi e vespri e poi le altre ore e la preghiera ufficiale possiamo proprio chiamare così della chiesa è dove certi monasteri lo usano del salterio completo nudo e crudo com'è altre volte invece quella che più normalmente si usa vengono tolti questo salmo 109 mi pare che ho detto 109 non viene mai utilizzato non viene mai inserito nel salterio e anche per esempio il salmo 137 che abbiamo commentato viene usato nel salterio e si usa sono andato a cercare ai vespri del martedì della quarta settimana saprete che il salterio è diviso in settimane prima seconda terza quarta settimana poi si ricomincia da capo e le due ore principali sono l'odio e vespri il salmo 137 si usa ai vespri della quarta settimana però è fino al versetto fino al versetto 6 poi 7 l'8 e il 9 non vengono letti che sono quelli che ho commentato più difficili è giusto toglierli giusto lasciarli alla fine non cambia molto chiaro che per una per una lettura più superficiale farebbe difficoltà leggerli ci vorrebbe un approfondimento maggiore ci vorrebbe anche una conoscenza maggiore che a volte magari manca e quindi la chiesa come madre ha detto beh togliamoli questi non saranno quelli che cambiano il salterio e quindi alla fine ci evitiamo la fatica di leggere cose che poi vanno spiegate in lungo in largo e che quindi diventano problematiche per concludermi viene da dire e questo salmo merita l'attenzione se i salmi sono 150 questo è certamente uno che lo salmo che merita non è lungo avete visto l'abbiamo letto tutto lungo in largo merita per la sua poesia merita per la sua potremmo dire attualità perché se l'ha attualizzato verdi penso sia giusto che l'attualizziamo anche noi perché pur vero che noi desideriamo per esempio un mondo migliore senza parlare solo del regno dei cieli è vero che noi desideriamo sempre un mondo migliore è bello che noi desideriamo la pace è bello che noi la costruiamo la pace bello che tante cose e questo salmo ci può aiutare ci può aiutare proprio in questa preghiera per 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 il positivo che vogliamo costruire intorno a noi bene grazie a tutti voi buonasera buonasera grazie a tutti grazie a tutti